Buongiorno cari lettori e cari lettrici di Oral.net, bene siamo sempre qui, stiamo traguardando la sedicesima puntata di Tripla Doppia, sempre con il direttore di Oral.net Fabrizio Noto e collegati da Milano, Cristiano Garbin, buonasera Cristiano. Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, teleascoltatori. Direi soprattutto, è Luciano Pizzi, buonasera Luciano, ciao. Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti i videoascoltatori, tele, non esageriamo adesso. Video, video, sì, c'è Luciano che è il nostro nome. Sono un ragazzo dell'altro millennio, quindi mi scappa tele. Hai ancora la tv in bianco-nero. Con il tubo cattodico. Allora ragazzi, da pochi minuti Treviso è tornato in Serie A dopo sette anni. Quindi si chiude finalmente la stagione di Serie A2 il 17 giugno. Ricordo che tre anni fa, con dosa di Brescia, 23 giugno, il sudore che colava, spaventosa, la gara 5 contro la Fortitudo. Vabbè, grandi congratulazioni a Max Menetti, alla sua Benetton Treviso. Io ho ancora fissato con la Benetton Treviso, invece è la De Lonchi Treviso. Una gara incredibile, Lucio, tu l'hai vista, vero? Sì. Provo un attimo a descrivere cosa è successo, perché mancava solo l'ancillotto stasera. È successo di tutto. No, ma mancava veramente solo Enrico Totti che segnava con la stampella. Sì, sì, sì. Dei triple. Perché Treviso è partita con la sua marcia di fronte a una capo d'Orlando totalmente disfatta. Dove, oltre ad aver perso Brandon Trish in gara 2, perse anche, poco prima della gara, anche Joe Trapani e Matteo Lagana, oltre a Corcio Stodini che per un malore è dovuto stare negli spogliatori. E nel quarto finale pure Jordan Parks. E nel quarto finale Jordan Parks. Cosa c'è? Cosa c'è? C'è una grandissima partita. Eppure Capo d'Orlando, perdendo Jordan Parks, è rientrata da un meno 22, arrivando a un meno 4, sbagliando anche due comodi lay-up. Poteva fare il colpaccio contro un Treviso guidata dall'esperienza magistrale, anche se poco sportiva, di Logan, perché un paio di episodi di Logan provocatori erano un po' fuori luogo in questo caso. Non è nuovo, eh, buon David. Bravo, bravo, Cree. Però comunque lui con... Io faccio la scena. Con i sette punti finale. Angelone. Angelone Gigli, Angelone Gigli che puntò al dito verso Logan. E di Devil, pur con un Bellan stasera in forma stratosfera... Simone Bellon, scusatemi se mi sento troppo, Cialuccio. Io, come tu ben sai, ahimè, sono stato costretto per quattro anni a sorbirmi nella Serie 2. Devo dire che se Capo d'Orlando non avesse avuto Simone Bellan, che si era rotto il crociato o il mediale, non ricordo bene, ha proprio a inizio preparazione e che è rientrato da un mesetto scarso, insomma, Simone Bellan è tanta roba, è veramente tanta roba. E' un altro so di... No, ma soprattutto è un ragazzo che Marco Sudini aveva visto già lo scorso anno a Casale Monferrato fare un grande campionato. Ed è un giocatorino a cui stare molto attenti perché c'ha delle doti... Credo che abbia fatto pure una stoppata su Burnett. Sì, una grandissima stoppata. Dopo la tripla, dopo una tripla miracolosa al buzzer-beater dei 24 secondi, ha creato una stoppata su Mario Barnett. Segnalo anche due giocatori, mi collego al tuo discorso, che mi hanno impressionato molto. Joseph Mobio, giocatore che mi ha molto impressionato sia per l'utilità fisica... Giordano, dillo bene. Joseph Mobio. Oh, adesso si capisce. Sì, Mobio. È un ex Stella Azzurra. È uno di quei giocatori di colore estremamente atletici perché è Germano d'Arcangeli, che è il mentore storico della Stella Azzurra. Li vuole dannatamente atletici, dannatamente alti, scattanti, agili. È la sua filosofia, giustamente. E ma oggi non puoi fare questo sport se non sei atletico. E mi ha colpito tantissimo dalla parte di Treviso Uglietti. La difesa di Uglietti. Allora, io vi dirò che due anni fa, tre anni fa, quando vedi per la prima volta Lorenzo Uglietti giocare a Latina, fare una partita contro la Virtus Roma al palazzetto dello sport a Roma, mi dissi ma questo è un po' sprecato in Serie 2. Cioè, potrebbe giocare tranquillamente in Serie 1. Non è molto alto, però c'è una difesa, c'è una tigna, c'è un carattere, c'è una bellissima gamba che gli consente di fare una penetrazione secca sul ferro. Stiamo parlando sempre di giocatori italiani, non stiamo parlando di livelli incommensurabili. Stiamo parlando però di giocatori che zitti zitti, tomi tomi, quatti quatti, in Serie A sono... Poi è una amica in Serie A che non è che giocano tutti i fenomeni. No, no, certo, tra l'altro poi paradossalmente si sta quasi sbilanciando, nel senso che paradossalmente forse in Serie 2 trovi fior di bei giocatori che vanno giù per mille motivi, perché vogliono soldi, vogliono giocare. Mille motivi, il motivo principale è uno. Sì, vabbè, certo. Senti, Cristiano, tu che sei stato silente fino adesso, quindi, congratulazioni, sarà un piacere rivedere il Palaverde, respirare anche se non ci sarà più la maglia bianco-verde, ma è la maglia bianco-azzurra storica del comune di Punto Treviso. Cristiano, dacci dall'alto della tua conoscenza, della tua grossa esperienza sul tema NBA, diamo anche grosso merito a questa incredibile sorpresa dei Toronto Raptors. Ti dico solamente questo. Io mi sono rivisto l'intervista che pubblicai a Davide Pessina il 12 aprile scorso, quindi proprio alla vigilia dell'inizio dei play-off, e quando si parlava dei Toronto Raptors, Davide Pessina diceva, sì, sono buoni, sono bravi, hanno fatto una sicurezza. Forse possono far bene cecca a Will Leonard, ma chi avrebbe mai pensato che le cose poi sarebbero andate come sono andate? In pochi, in pochi, però c'è da dire che hanno sfruttato, a proposito degli infortuni, tra Treviso e Capodorlando, anche la finale NBA è stata costellata di infortuni più o meno gravi, a parte Durant, che comunque ha saltato praticamente tutta la serie. Anche Clay Thompson, insomma, Golden State è arrivata veramente acciaccata. D'altra parte, il chilometraggio delle star di Golden State è abbastanza elevato, perché se andiamo a vedere gli ultimi anni, per un motivo o per l'altro, hanno spinto tanto anche in regular season per battere record su record, per arrivare sempre al primo posto. Mi ricorda qualcosa questo? Sì, anche a me, purtroppo. Vabbè, è diversa un po' la questione. Leggermente diversa. Sì, è leggermente diversa. E poi anche la carta di identità, insomma, i big di Golden State non hanno più 25 anni, iniziano ad essere solo a trentina e inizia a pesare la cosa. Durante una trenta, Dremon Green mi pare quasi 29-30. E ripeto, la NBA non perdona, non perdona queste cose qua. Cioè, perché arrivi un po' meno fresco, poi anche il cast di supporto, più che meno aveva problemi fisici, e qualcuno ha steccato magari le partite che contavano. Mentre dall'altra parte, invece... Il nesto di Cousins è una roba che hanno pagato. Perché se ci fosse stato Javel McGee, ad esempio, che è un giocatore preso singolarmente, ben differente da Cousins, molto più, tra virgolette, specialista, però Cousins lì non c'entrava proprio niente. Sì, sì, bensomma. Soprattutto il Cousins reduce dall'infortunio. Non salta la gazzetta, come si diceva. E poi è uno... Sì, è un giocatore che è bisognoso di attenzione, di palloni, bisogna rifornirlo. Cioè, c'entrava poco col sistema di Golden State. Beh, io... Però parliamo di Toronto. Toronto, onestamente, cioè, bisogna dare atto al plenipotenziario Masai Ujiri, mi pare che si pronunci così, di aver costruito una squadra in un luogo dove il basket non è proprio il primo sport. Sai che, tra parentesi, sai chi ce l'ha messo lì? Masai Ujiri, sai perché è diventato chi è... cioè, praticamente, colui il quale l'ha portato a Toronto? Sai chi è? No. Sapete? Te, Lucio, lo sai? Era Brian Colangelo, forse. Era uno... te lo dico, è uno che... mi sembra che sia... che canti bene l'innovazione dell'italiano. Erpomata. No. No. Facciarotto. Con gli occhiali. Mauvicio. Mauvicio. Sempre lui. Sempre isso. È sempre isso. È sempre isso. Eh, ragazzi, dove si vince? La lunga manos di Ghirardini. Ma allora... Beh, Masai Ujiri compì anche nei tempi di Denver compì la trade più clamorosa della storia. Ovvero, per Carmelo Anthony a New York... Ah, sì, sì. Prese... Clamorosa della storia. E prese... è clamorosa quella lì. Un pacco tirato così bene prendendosi sei giocatori importanti. Ma non è... non fu lui. Lui scambiò bagnare. Eh? Vabbè. Non mi torna. La cosa andrò a controllare. Però sicuramente lui scambiò bagnani per quattro tozze di pane fondamentalmente perché si prese dei giocatori impresentabili. Però scaricò bagnani per il contratto perché vuole ripartire. E anzi... No, scusa. E oggi è comparso... Oltre a quello? È comparso su... No, stavo dicendo. È comparso online una foto della tifosiera di Toronto e c'era un cartello inneggiante a bagnani. Ah, sì, sì. Inneggiante mica troppo. Non so se l'avete visto. No, sì. No, beh. Io devo dire sinceramente un giorno qualcuno ci spiegherà cosa è successo o meglio come sia stato possibile aver buttato nel bagno tirando lo sciacquone tutto quel talento in quel modo senza... Un giorno qualcuno ci lo spiegherà. Io dico solamente una cosa. nella famosa intervista che feci a Davide Pessina sui playoffs NBA io feci il mio accorato applauso a Marco Bellinelli. Cioè, ma Marco Bellinelli, no? Che è andato di là. Dice, ah no, ma questo no, ma questo sa solo... Ogni anno, anno dopo anno è migliorato. In qualcosa è sempre migliorato. Non c'è niente da fare. Il grosso limite di tutti i nostri giocatori poi ne citerò uno durante l'anno è che non migliorano. Giocano sempre al stesso modo. Quello non riescono a migliorare, non vogliono migliorare. Se non quasi poi peggiorano perché non riescono proprio tecnicamente e fisicamente a migliorare. Vabbè, poi questo è un altro discorso ancora. Comunque, Toronto alla fine della fiera pescando non con scelte altissime al draft. Facendo trade che al primo momento potevano sembrare svantaggiose. Ha preso il treno di Kawhi Leonard perché lì è come fare se è supererarotto ti trovi Kawhi che San Antonio è costretto a cederlo perché diciamoci la verità se ci mettevi De Rozan al posto di Kawhi Leonard Toronto usciva al primo turno forse al secondo. Cioè la differenza tra i due è abissale non tanto ma come presenza come Io ho negli occhi ancora la famosa la finale del 2014 contro Cleveland cioè sì c'era Ginobili c'era ancora Duncan c'era però contro Miami 2014 2014 era contro Miami scusami no no ma rimasti impressionato da proprio Leonard disseva questo qua e adesso onestamente dovessimo fare una classifica nei primi 5 giocatori NBA Leonard perché tutti guardano ecco Steph Curry sì ok ma guardiamo solo l'attacco ma guardiamo anche la difesa esattamente questo è un fattore che ci porta automaticamente Carlo Luciano domani sera quindi allora Serie 2 si è conclusa quindi abbiamo finalmente le tre squadre in Serie A sappiamo le squadre che sono retrocesse sappiamo anche le nuove promozioni salgono Orzinuovi che è un ritorno perché due anni fa era scesa Pescara e la terza squadra adesso c'è un po' di memoria ma voi sapete vedere che è l'Urania Milano la quale si dice che potrebbe fondersi con con Legnano con i Knights di Legnano quindi fare effettivamente una squadra che non è solamente la squadra sfigata di Milano ma potrebbe potrebbe rappresentare effettivamente un qualcosa di estremamente interessante io ve la butto lì io so che il presidente di Legnano sta cercando di salvare la squadra con un azionariato popolare sì Marco Tagliano abbiamo fatto un'intervista io l'ho anche intervistato dieci giorni fa proprio abbiamo presentato la loro in Knights We Trust però lui intelligentemente dice non solo voglio spostarmi a Milano dove c'è il palalino dove posso trovare spazio con l'Urania ma soprattutto il sogno ora caro Luciano se sei seduto è quello di unificare Cantù noi con Varese e fare una sola squadra che possa arrivare ai dieci dodicimila spettatori a gara per competere in Europa ma chi è che l'ha letta sta cosa? va bene le utopie vanno bene le utopie no no ragazzi non è cioè scusatemi non è se voi ci pensate bene come funziona l'NBA? ci sono una squadra aspetta 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 noi noi non siamo l'America per mille motivi no? però loro hanno fondamentalmente c'è una squadra diciamo in uno stato no? quindi c'ha un c'ha un bacino spaventoso quindi se tu vuoi creare i presupposti per mettere in piedi un palazzetto che sia dieci dodicimila spettatori diciamo che questo è il range come fai a far dodicimila spettatori solo a Varese o solo o solo a Cantù stiamo parlando di lo dico io come fai costruire i palazzetti da dodicimila perché finché ce n'è da quattromila da dodicimila non li farà mai guarda questo è un tema su cui si può discutere dimmi Luciano fidati che soprattutto le piazze come Varese e Cantù che sono tra le ultime vere piazze insieme a Bologna e non considero neanche Milano perché Milano è casa a parte però Varese Cantù e Bologna sono tra le ultime vere piazze dove se c'è un impianto da novemila posti quell'impianto si riempie di novemila posti a Bologna si a Varese singolo se gli dai in un palazzetto da diecimila fanno in diecimila tu sei convinto di questo con un progetto serio ovvio che si fai la squadra per salvarti scusate ragazzi che parte dalla pasta vagesina dove abito io fino a oltre aspetta fermi tutti ci ricordiamo di Livorno Livorno aveva due società finché ce ne sono state quelle due società che possiamo paragonare per certi versi a Varese e Cantù facevano il pieno uno e il pieno l'altra li hanno voluto unire palazzo nuovo a diecimila persone vuoto perché non si possono eliminare le rivalità non puoi unire Varese e Cantù sono folle potrebbe farlo ma quando è che scusami va bene sono d'accordo a parte il fatto che le grandi rivalità sono Milano Varese Cantù viene dopo no 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 Cantù Varese è più forte Cantù Varese che Milano Varese va bene ma se tu vuoi puntare a fare soldi business come dicevamo come abbiamo sempre detto non puoi non andare in quella direzione no non puoi andarci in quella direzione se ci vuoi in quella direzione vai contro un muro è un rischio troppo alto perché voi siete no no voi siete giustamente voi siete giustamente siete legati al vostro territorio che conoscete e quindi vogliete questo io guardo un pochettino più a ampio raggio e secondo me non è non è un ragionamento sbagliato perché se noi continuiamo a fare i provinciali no non è questione di fare i provinciali è questione di salvaguardare l'identità di una squadra se gli togli l'identità di una squadra che te la viene a vedere nessuno è come prendere che ne so sarebbe un ibrido capito come è successo a Livorno cioè Livorno è la classe più eclatante cioè il problema no scusami io e poi chiudiamo cioè non è che voglio chiudere io per avere diciamo l'ultima parola secondo me a Livorno le cose sono crollate perché c'è stata gente che non ha saputo gestire le cose cioè non puoi non puoi passare come quello che sta succedendo a Virtus.Roma cioè scusami nel 1983 quando vinciamo lo scudetto unico contro contro Milano non c'era non c'era non c'era dove è finita 2.000 spettatori 3.000 al massimo quando c'è stata la proporzione è normale anche a Milano 15 anni fa erano 2.000 non è che erano 10.000 a Milano quando c'era la Pippo con Orton erano 2.000 scusami sono finiti sono finiti che Cantù ne tiene 3.000 se la squadra va male se la squadra va bene ne fa 7.000 è tutto lì in Italia è così giriamo pagina allora playoff scudetto che è l'ultimo tema che ora affronteremo abbiamo solo 2-3 minuti allora siamo ancora nell'equilibrio in alto mare no allora secondo me non è in alto mare è chiaro quale sia e allora secondo me è chiaro quale sia la squadra più forte e secondo me è Sassari poi che Venezia sia una squadra solida con un talento enorme con un gioco offensivo sicuramente molto più più pulito e più preciso ma contro questa Sassari fa pochi punti in area perché tranne Wittmar Watt sta un po' sta un po' sta un po' sbrasandosi perché si sta si sta annientando in difesa Sassari sono quattro gare che due non dico che le domina diciamo che quasi tre le gioca meglio una la perde come l'ha persa in casa perché sono entrati un po' troppo tranquilli cioè mo qui li facciamo a pezzi e poi loro sono stati loro che hanno fatto a pezzo Sassari io da come vedo certo poi se domani poi vince Venezia ci vuole un miracolo però Venezia è sempre la solita Venezia finalmente c'è Dei che fa anche i bambini a colori e dico io pure finalmente dopo una stagione che non si era capito che cosa stesse facendo grande grande talento offensivo ma Sassari è veramente un'altra roba ieri si è visto finalmente Carter che ha fatto quelle due o tre cose non partendo più dal titolare ben si è dalla panchina quindi dimmi la tua Luciano guarda la mia la mia è semplice Sassari è una squadra tecnicamente e fisicamente più forte di Venezia se solo Venezia utilizzasse un attimino quel briciolo di tattica che ha di più nella sua squadra potrebbe portare a casa questo scudetto perché Sassari gioca veramente a briglia sciolta gioca senza un adattamento senza un qualcosa di tattico di studiato Venezia in quel paio di giochi che ha provato De Raffaele a mettere in campo qualcosa ha cavato fuori eh beh sì con Stone messo con Stone messo in marcatura su Pierre o in una boxing one con Stone stesso proprio direttamente su Pierre e gli altri in box provando qualcosina a livello difensivo con trovando anche un Cerella dalla panchina e aiuta una transizione migliore a livello offensivo sfruttando Dey appunto che è abbastanza in palla in questa non non dimentichiamoci che comunque ci sono due giocatori rotti che non possono giocare da un lato c'è Denzel Washington in quel di Venezia e da un lato c'è Scott Bainford ma già lo sapevano Denzel Washington Daron scusami Daron Washington hai detto Denzel Washington no no Daron scusate vabbè scusate Daron forse si vede che non avete sentito bene ma io mi sembrava aver detto Daron Denzel Cristiano Denzel vabbè scusatemi sarà sarà l'età Cristiano dimmi un pochettino tu Sassari allora Venezia ma la serie secondo me è più equilibrata infatti sono due a due non per nulla onestamente vedevo se torno indietro porto il mio orologio indietro all'inizio prima di gara 1 Venezia mi ha sorpreso in questa serie finale sì non pensavo non la meno io non reggesse così l'urto io ho pronosticato una vittoria di Sassari 4 a 2 sono ancora in tempo per azzecare il pronostico ma comunque Venezia mi ha sorpreso anche devo dirti oggi come oggi non sono così sicuro che finisca a 4 a 2 anzi la gara decisiva sarà quella di domani gara 5 secondo me come spesso succede quando una serie a 7 è sul 2 a 2 adesso praticamente è una serie al meglio delle tre una serie al meglio delle tre il primo che vince fuori casa fondamentalmente però devo dire che la Sassari d'altro canto mi ha un po' deluso non è più la Sassari brillante che abbiamo visto contro Milano secondo me perché onestamente se io sono sicuro che tutti i tifosi milanesi che stanno guardando che hanno guardato queste partite di finale dicono vabbè ma come abbiamo fatto a perdere contro questi ma la Sassari che ha giocato 15-20 giorni fa non era questa era molto più brillante molto più aggressiva gli entrava anche di tutto adesso fa un po' più fatica e per cui se non trova forze nuove dalla panca magari da persone da gente che ha giocato poco fino a qui ad esempio Carter non è così scontato che vinca io faccio un altro tipo di discorso secondo me Sassari paga anche il fatto che questi qui forse qualcosina avrà vinto mi dite un ragazzo di quelli che è in roster di Sassari che abbia vinto qualcosa spesso ha vinto il campionato di Serie 2 con Bologna poi le vecchie sì ma non va in campo le vecchie ma non vanno in campo cioè io io penso che quelli di Venezia sono molto più esperti molto più scafati molto più non scafati in basket sono molto più sono più avvezzi a certe partite a certi clini sporchi a altre stalking quelli di Sassari sono più sono più sono bellissime farfalle come Thomas e come Pierre che sono che volano svolazzano però poi cioè ecco ho questa sensazione Sassari sta cominciando secondo me a sentire il peso stanno cioè mentre contro Brindisi ha fatto sono state tre partite una più bella dell'altra e Sassari era superiore con Milano siamo siamo underdog è andata tutto liscio come l'olio come ha detto anche se poi Milano ha avuto le sue grandi pecche gli è dato anche tutto sì sì vabbè però sono stati superiori adesso non capito di gara 2 anche lì vedi che se gara 2 vince Milano è lunga la serie non è detto che Sassari poi però l'avevamo detto non l'avevamo detto era fondamentale vincerne uno per allungare la serie ora onestamente Sassari le energie finiscono anche per loro sì va bene però però il concetto è che tu ora Sassari non è più la sorpresa le 22 vittorie 22 cioè il peso tu lo cominci a sentire non c'è niente da fare gara 3 è la classica è la dimostrazione proprio plastica siamo forti adesso entriamo in campo li facciamo a pezzi sono partiti male non sono più riusciti a mettere ci sono andati due volte in parità per due volte sono bucati la tripla che gli dava quel quel balzo in più e l'hanno persa e l'hanno persa diciamo che poi la 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 percentuale da tre punti conta tanto in questa serie beh certo se tiri 34 volte mi sembri evidenti che conta io personalmente sono per un altro basket e Sassari non tira tanto da tre e poi chiudo io se devo essere sincero a me fa rabbia uno come Polonara allora Polonara non è non è non è assolutamente un giocatore atletico assolutamente anzi ma porca miseria ma vuoi scendere giù con le gambe quando quando devi difendere sta sempre alto non difende mai come si dovrebbe difendere viene sul primo palleggio Dei che non è sicuramente l'ultimo arrivato cioè certo non è facile tenere Dei calma ma lui come difende ma voi l'avete visto ed è sicuramente un giocatore che ha delle potenzialità cioè non è insisto non è che stiamo parlando di Vince Carter stiamo parlando di un ottimo giocatore italiano ma perché non difendi ma santi Dio ma non difende ma voi voi fateci caso lui sta lì poi ci farò caso perché a me non pareva tutto sto guardalo bene sarà che sono abituato a quelli di Milano una delle regole fondamentali che mi hanno sempre insegnato guarda come difende Bruna Cerella eh vabbè scusami eh allora il basket è uno vince chi fa più canestri e chi difende meglio allora se difende bene Bruna Cerella un Polonara che non ha assolutamente ha molti più chili molti più centimetri e forse molta più potenza fisica lui dovrebbe proprio imparare da Bruna Cerella come si difende culo a terra giù giù sulle gambe cioè non è possibile che io debba vedere sto ragazzo che io poi io poi apprezzo tantissimo praticamente fisicamente che faccia quello che che sembra che viene bruciato sempre sul sul primo palleggio scusatemi da sfogo no ma perché io trovo inconcepibile che un giocatore con quelle con quelle caratteristiche non riesca a fare di più ora certo poi gioca contro Dei giusto che non è sicuramente un cretino assolutamente giusto però dai vabbè ma di mercato facciamo che parliamo settimana prossima facciamo che parliamo di settimana prossima perché non c'è niente da dire perché tutto sommato c'è da dire però vabbè sì Gigi da tome sì Gigi da tome abbiamo capito no 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 ma io mica allora ma mica solo quello no vabbè allora due pillole dai Garbo spara un paio di pillole no vabbè pillole di ufficiale ancora non c'è niente quindi su Milano si attenderà l'avvento di Messina conferenza stampa prevista per mercoledì alle 15 quindi da lì già si potrà capire qualche cosa di più e il mercato italiano è paralizzato in attesa delle decisioni di Milano tanti giocatori stanno aspettando la chiamata oppure no da parte di Messina ti dico un po' di nomi che lo stanno aspettando Boraschini Biliga che poi sono quelli che i nomi che ho fatto io tra parentesi beh si immaginava quelli che sono sono usciti fuori da tome e melli ovvio che sia ma secondo me da tome è più probabile di melli un ritorno di Hackett appena rinnovato col CSKA escluso proprio fino al 2021 te lo dico guarda se torna in Italia torna solo a Pesaro e basta giusto no dico solamente se nel senso che finalmente Ettore dovrebbe finalmente fare giocare tutti su questo poi è un altro discorso ancora vabbè un'altra pillola è Peppe Poeta vicino a Pesaro ti piace come pillola sì già l'avevo sentita e mi sembra una cosa chiedo scusa era un giocatore che avrei visto avrei visto molto bene a Roma perché si era proprio era ritagliato perfettamente per però qui qui ancora si sfogliano della Margherita infatti a Roma che succede? niente il silenzio più totale pare che abbiano preso questo ragazzo che sarebbe il figlio del capo della Fruit of the Loom Lion e amico del Bontotti sì sì vabbè ma qui ormai siamo al dagliere tacco dagliere punta no vabbè ma noi ma noi qua ma noi qua a Roma non ci facciamo lasciare nulla anzi ti dirò che ci sono anche dei tifosi che dicono eh però voi criticate troppo ma allora sono passati due mesi dalla vittoria del campionato tu hai avuto due mesi per provare a mettere insieme le cose tipo nuovo assetto societario quindi budget da mettere niente silence the sound of silence di Simon e Simon e Grafunker vabbè ma dite a Totti di assumere Totti no Totti Totti dovrebbe avere quello dico quello nego perché sono l'unico che ha avuto il coraggio in questi anni di dirlo Totti dovrebbe andarsene a casa non mi non mi interessa cioè basta non sei l'unico io conosco personalmente almeno una decina di amici che non vanno più a palazzo finché c'è Totti no ma la cosa più drammatica è che ci sono dei giornalisti che non hanno il coraggio più di scrivere questo cioè cosa fanno questi non non parlano della Virtus Roma o non parlano della Virtus Roma oppure quando quando ne parlano loro ne parlano male quindi cioè capito lui quindi sai secondo loro lui si macera invece l'unica cosa è scrivere sistematicamente grazie sei stato unico noi ti amiamo però adesso basta vattene perché non è più tolerabile dalle mie informazioni sta sfogliando la margherita con chi con chi fare alleanze con chi intanto il tempo passa ebbè d'altra parte signori siamo stati pure troppo un grande abbraccio un grande saluto ci sentiamo presto alla prossima a Maiora grazie e buona serata a tutti ciao a tutti grazie ciao ragazzi grazie viva triplo doppio sempre grazie